Il Comune di Teramo cerca rilevatori per il censimento. Cosa bisogna fare per partecipare alla selezione? Sì, esattamente. È stato emanato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per i rilevatori nell'ambito del censimento permanente della popolazione delle abitazioni 2021-2022. Sul sito dell'ente, nell'apposita sezione Istat, è presente il modulo per la partecipazione alla graduatoria. Si tratta di un modulo da compilare completamente online, quindi non ci sarà bisogno di inviare la documentazione tramite PEC o il protocollo in modo tale da agevolare e venire incontro quanto più possibile alle esigenze sia del momento ma anche dei cittadini per la partecipazione. La scadenza? La scadenza è fissata per il prossimo 29 maggio. Potranno partecipare tutti i ragazzi e i giovani che hanno compiuto almeno il diciottesimo anno di età abbiano una buona dimestichezza degli strumenti informatici, abbiano almeno il diploma di scuola superiore e un'altra serie di requisiti sono tutti riportati sul bando. In totale, quante persone prenderete per il censimento? Allora, al momento l'avviso non è a numero chiuso, quindi si formerà una graduatoria sulla base delle persone che avranno i requisiti per la partecipazione e in base poi alle esigenze di volta in volta anche emanate dall'Istat e il raccordo con il comune di Teramo verranno incaricati dei ragazzi, ovviamente a rotazione e a scorrimento della graduatoria per prendere parte a questa operazione di censimento che a breve consiste nel dettaglio? Allora, il censimento, il raccordo con l'Istat consente in questa fase di andare a verificare soprattutto la numerazione civica delle abitazioni più una serie di informazioni e di richieste su domande stabilite dall'Istat sulle famiglie. Quindi diciamo che mano a mano il raccordo con l'Istat è l'Istat che detta le linee di indirizzo sulla modalità operativa. Grazie.